Ex Tribunale di Via Santa Corona Vicenza, svolta sul futuro dello stabile. Riunione a Borgoberga tra il Sindaco Rucco e il Presidente del Tribunale Alberto Rizio e i tecnici per definire le modalità operative dello sgombero degli spazi, una volta adibiti ad aule, uffici e archivi, in vista della riqualificazione e destinazione a nuova sede della Biblioteca Bertoliana. Si partirà con il recupero o smaltimento del vecchio arredo e apparecchiature non più utilizzabili, dall'escrivania agli armadi fino ai computer. Il secondo passo sarà individuare i locali adatti ad ospitare quanto ancora custodito nel vecchio ufficio, corpi di reato e la mole di fascicoli d'archivio. A seguire il tutto per conto del Ministero della Giustizia sarà il Tribunale stesso.